La partita è una partita difficile Abbiamo vinto 3-1 con una buona squadra Molto ostica anche loro, fisicamente ben preparati E alla fine, magari con un po' di fortuna più noi, abbiamo vinto Quanto è inciso la fusione delle due squadre del Trafiume sul gioco? Ha inciso sicuramente in positivo Perché noi eravamo stata una squadra un po' anziana Loro sono molto più giovani Avevamo bisogno di un po' di corsa, di nuove energie E la fusione è stata una cosa positiva Grazie mille, grazie per la disponibilità Speriamo di rivederci con altri risultati positivi In fondo so che siete anche tra le prime in classifica Quindi siete anche una bella squadra, una squadra forte E grazie mille Grazie Vediamo di rivederci Grazie